Praticamente dovete chiederlo a loro perché gli avevano detto faccia attenzione a come si comporta. Io ho mai visto una roba del genere, obiettivamente mai visto un effetto così propedeutico, così condizionante. È una cosa che non mi è piaciuta e per di più, perciò questo vuol dire, l'abito qualunque cosa faceva in errore era condizionata. Perciò c'è tutto un movimento, è giusto, questo però serve da lezione anche a nostra realtà, a Parma. Quando io mi arrabbio che non si fa notare nemmeno quello che è a favore. Qui addirittura la prevedono prima, sovveggenti. Sembra quasi di riperdore quanto è successo con la squalifica di Lanzafano. No, ma non è solo quello. Il problema è che mi ha disturbato molto quello che si è dichiarato, quello che è stato scritto. Mi ha disturbato. Noi abbiamo affrontato questa partita dando grande prova di serietà che ci teniamo a questo campionato. Permettetemi il termine, siamo incazzati perché ha perso la Fiorentina, ha perso il Genoa e noi avevamo in mano la partita. E penso che se non c'è l'episodio dell'espulsione la partita non la vince il Bologna. Scusi Leonardo, noi ci siamo inseriti dopo. A cosa si riferiva cose dette e scritte in settimana? Voi siete di qua, no? Leggete gli editoriali anche di oggi che parlano dell'arbitri dal 60 a oggi o di come si doveva comportare Bergonzi. Il Bologna nelle ultime quattro partite è stato molto danneggiato, il che non vuol dire niente contro il Parma. Voi pensate che il Parma in tutto il campionato è stato sempre avvantaggiato? Eppure io... Come si riferisce all'espulsione di Zaccardo? Mi riferisco che ha fatto prima per esempio non solo l'espulsione di Zaccardo, è stato molto più tempestivo Colombo a togliere Moras dopo cinque falli su Biabianic e chi doveva ammonirlo. Però c'è stato anche un gol annullato che ancora non si sa bene... Comunque tagliamola qui, non mi voglio arrabbiare. Sono già arrabbiato del mio, avete vinto, ha vinto il Bologna, merita il Bologna e siamo tutti contenti e felici così almeno il movimento è andato avanti. Quindi lei è arrabbiato con il tipo di arbitraggio? Sono arrabbiato per tutto perché era una partita che eravamo venuti a giocarcela per i nostri obiettivi e per una settimana non si è fatto altro che dire che tanto il Parma che ha da dire al campionato. La prima domanda che mesi fa che ha da dire da sto campionato è che il Parma deve vincere più partite possibili perché quest'anno arrivare in alto in classifica è qualcosa che conta molto e perciò non si deve mancare di rispetto per chi è onesto. Io mi ritengo una persona onesta, il mio allenatore è una persona onesta e la mia squadra è piena di ragazzi onesti. E perciò questa cosa qui non la sopporto, ho visto tutti i sondaggi di stasettimana per la salvezza, Bologna vince col Parma, sondaggi di tutte le televisioni, la Roma vince col Parma, la Juventus per la Champions vince col Parma. Ma noi che siamo dei spari in partner, che facciamo? E non considero giusto il sistema che si mette a fare queste cose perché siccome rappresento una società seria ritengo che sia giusto farmi sentire. Non voglio giudicare l'operato dell'arbitro, non mi è sembrato nemmeno corretto che tutta la settimana non si è parlato altro che di arbitri. Allora, siccome ci sono qui di mezzo tutti i dirigenti, tutti i colleghi, i giornalisti, ho voluto mandare un messaggio nemmeno a voi, guardate, a chi fa comunicazione a Parma. Avete visto come fanno? Così almeno la prossima volta ci impariamo quando nel dubbio diamo contro al Parma. Invece di questi 90 minuti cosa pensa? Che il Parma abbia perso più che altro per questioni arbitrali? Questo lo giudicate voi, questo giudicatelo voi, io ringrazio i miei giocatori e il mio allenatore per l'impegno profuso e perché penso che hanno dato il massimo di quello che potevano dare. Mister, Leonardo è arrivato veramente arrabbiato, soprattutto per quello che è successo in settimana, nel senso tutti dicevano la partizia esassegnata, invece in realtà il Parma soprattutto all'inizio ci ha provato. Il Parma aveva l'obbligo di provarci e di cercare di vincere la partita perché noi abbiamo degli obiettivi che sono nostri, che magari quelli di Europa League sono ormai irraggiungibili, mi sembra, ma quelli di chiudere la stagione cercando di arrivare ai 50 punti e coronare una stagione magnifica è un obbligo che noi vogliamo avere e ci sentiamo addosso. La partita è... io non sono arrabbiato, anche se le ho viste queste cose, le ho lette anch'io, ma insomma questo fa parte del nostro mondo che dovrebbe crescere da un punto di vista culturale, prima di tutto. Ma la partita a me è piaciuta nel senso che per la prima mezz'ora il Parma ha giocato con personalità e ha messo in difficoltà il Bologna ed è passato meritatamente in vantaggio. Dopo l'espulsione di Zaccardo è cominciata un'altra gara, ma non perché noi abbiamo giocato in 10, ma perché non si può pretendere, cioè io sono uno che non si lamenta mai dell'organico a disposizione, ma a un certo punto con Zaccardo espulso e con Pacci infortunato veramente ero messo molto male. La squadra ha comunque retto l'urto, non ha subito, ha anche provato in 10 di mettersi nella condizione di pareggiarla. La partita è chiaro che il Bologna ha fatto di più, ha avuto delle occasioni, in una ha centrato il secondo gol per una disavventura di un ragazzo che ha vissuto soltanto una brutta esperienza come esordio, ma che si farà perché ha le qualità per rifarsi e la gioventù e l'età. Basta tutto questo, non c'è niente altro da aggiungere. Forse le motivazioni del Bologna sicuramente maggiori delle vostre? C'erano anche le nostre perché la partita è stata vibrante, decisa e combattuta, quindi noi sicuramente le avevamo le motivazioni così come ovviamente ce le aveva il Bologna. La scelta di togliere Bocino? Lì ci ho pensato 10 minuti perché non sapevo chi togliere. Volevo tenere i due attaccanti perché mi sembrava stessero bene entrambi. Poi guarda quello che ha fatto la differenza è stata la possibilità di avere un giocatore in più sulle palle ferme perché il Bologna ha giocatori importanti. Quindi sia a favore che contro Crespo ci garantiva qualcosa in più sulle palle inattive. Ed è stata questa la discriminante perché se no veramente ero indeciso. Biabiani ha detto, mi sono ricordato tutte le volte che in allenamento mi dicono di tirare basso raso terra quando sono tu per tu col portente. Finalmente me ne sono ricordato. Biabiani è un ragazzo che crescerà ancora e che ha un futuro importante davanti a sé. Quindi sta crescendo e sta crescendo molto bene e noi siamo contenti per lui e di lui. L'espulsione lei come l'ha vista dalla panchina? Accetto il giudizio dell'arbitro come ho sempre fatto. Se ha visto così vuol dire che lui riteneva giusto decidere così. Come ha trovato il pubblico di Bologna e se l'aspettava o si aspettava di peggio? No, sapevo che sarebbe andato più o meno così. Magari speravo che il tempo, oltre a essere gallantuomo, avesse soppito. Ma non c'è problema. Facciano quello che vogliono. Ma tanto è un settore perché la città non c'entra mica niente. Proviamo a guardare la prossima partita con la Roma. Sì, sì, guardiamo la Roma. Per noi è sabato quindi dobbiamo già rimetterci in pista e al lavoro. Sì, guardiamo la Roma.